Buonasera amiche e buonasera amici di Tre Gran Minuti, bentrovati, siamo nel post partita Juventus-Fereng Faros, ma prima di partire per un commento al match, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campanellina delle notifiche e mettete like al video per rimanere aggiornati su tutti i futuri contenuti. Bene, partiamo con una veloce analisi di quello che è stato il match di questa sera, che intanto, diciamolo, con la vittoria, la Juventus si qualifica con due turni d'anticipo agli ottavi di finale di Champions League. Questo è quanto di buono va sottolineato, nonostante chiaramente fosse un girone, lo avevamo detto sin da subito, piuttosto abbordabile per la Juventus. Ma si sa che in Europa partite materasso, partite facili non ce ne sono, anche questa sera ne abbiamo avuto alla dimostrazione. Non tanto per la qualità dell'avversario, quanto perché se in campo ci vai senza gli occhi della Tigre, che a me sono cari, a me sono rimasti dentro, quando in un Viali Raccontaviali lo senti raccontare la preparazione al match della finale di Champions del maggio 1996. Ecco, da lì, secondo me, quello è il messaggio che ogni giocatore deve sentire dentro quando va ad affrontare avversari in Europa. Deve sentire il furore, deve sentire la tensione giusta, quella che ti tiene dentro al match ancorato alla fame e alla voglia di vittoria. Quello questa sera è mancato ed è obiettivamente il grande errore che possiamo imputare alla Juventus di questa sera. Una Juventus che, ve lo dico subito, per quanto mi riguarda, pur non avendo disputato certamente la miglior prestazione stagionale, non mi è dispiaciuta da un punto di vista del fraseggio, del giro palla, soprattutto nel primo tempo, della capacità di verticalizzare e soprattutto di mettere almeno 5 uomini oltre la linea della palla. È un input chiaro dell'allenatore, lo si vede lampante in campo, la Juve attacca con tanti uomini, ci sono sempre almeno 5 uomini proiettati nella fase offensiva. È chiaro però ed evidente che se ti viene a mancare quel furore agonistico, quella determinazione, quella concentrazione, ogni partita, anche quella che apparentemente può sembrare facile, diventa difficile. Ne è la dimostrazione il match di questa sera, però ecco, a differenza di tanti di voi che so già, e mi raccomando, commentate perché ogni commento è ben accetto ed è bello confrontarsi, quindi lasciate i vostri commenti qui sotto. A differenza, dicevo, di tanti di voi che so già criticare la prestazione dei bianconeri, vedere del nero in quella che è stata l'esibizione di questa sera, io ci vedo invece un qualcosa di molto positivo. Primo, la Juventus, nonostante una prestazione non eccellente, soprattutto dal punto di vista dell'approccio, è riuscita comunque a portarla a casa. Secondo, abbiamo un Cristiano Ronaldo che, pur non avendo offerto certamente la sua migliore prestazione, ha centrato questa sera l'ennesimo record della sua carriera, realizzando gol anche a Ferenc Varos, che era una delle vittime a cui non aveva mai fatto gol. Ha realizzato il suo 749esimo gol in carriera, insomma, un giocatore infinito. Abbiamo un Alvaro Morata rientrato, chiamiamolo così, alla base con una determinazione, una forza e una capacità di essere uomo squadra che probabilmente nessuno di noi gli aveva attribuito o pensava che sarebbe riuscito ad avere. Molto bene lui. Ecco, di questa sera, oltre all'approccio, boccio completamente le prestazioni di Dybala, ma Dybala diamogli tempo, sta tornando da un infortunio che l'ha tenuto lontano, ha avuto anche problemi probabilmente di deconcentrazione extra calcio. È un giocatore che va recuperato e dobbiamo assolutamente recuperarlo. Non mi sono piaciuti gli ingressi di Chiesa e di Kuluseski. Molto, molto male questa sera i due giovanotti esterni, messi dentro da Pirlo a partita in corso. Però, ripeto, non voglio vederci troppo del nero, ci vedo il bicchiere mezzo pieno, la Juve è agli ottavi di finale di Champions, continua nel suo, diciamo, progresso da un punto di vista del gioco, dell'input dell'allenatore, che è chiaro, lampante evidente, all'Aumentos piace giocare la palla, piace andarla a recuperare alta. Bene Danilo anche questa sera, davvero positivissimo. Nulla da dire, bene De Ligt, bene sempre il Panitta quadrado. Insomma, vediamoci quello che c'è da vedere di positivo. Adesso concentrati per il match di sabato pomeriggio contro il Benevento, però intanto la Juventus è qualificata. Lasciatevi i vostri commenti qui sotto, lasciatemi i vostri commenti qui sotto, sarà un piacere, come sempre, commentarli insieme a voi. Iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, mettete like al video, ci vediamo ai prossimi 3 minuti, buonanotte e sempre Forza Juve. Un abbraccio. Iscrivetevi al mio canale YouTube, mettete like al video, seguitemi sui social che vedete qui accanto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!